a pagamento se no a pagamento allora dipende da quanto ci danno non diciamo che sta solo come cazzo si dice quando dai l'esclusiva dato l'esclusiva a luca zerbi quindi non posso noi si allora non possiamo fare il nome non amo di più sennò avvizzialmente poi si incazza a Grazie a tutti. Grazie a tutti.